La consulenza specialistica ci ha aiutato a vivere in anteprima la giornata del nostro matrimonio attraverso una regia artistica che ci ha fatto vivere ogni singolo momento emozionandoci anche in quanto ci siamo immaginati già là lì presenti essendo sposi nel 2020 quindi ci siamo già emelisimati in quella giornata e soprattutto è stata basata sulle risposte che noi abbiamo dato al questionario per cui in base ai nostri gusti, ai nostri desideri, a quello che vorremmo che fosse quella data siamo immelisimati, guardando quei video siamo immelisimati e ci è stato da scegliere tutto quello che noi vogliamo quel giorno lì inoltre la consulenza specialistica ci ha aiutato ad avere la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta e soprattutto se eravamo noi la scelta giusta per Francesco dato che Francesco lavora generalmente dalle 20 alle 30 coppie l'anno e noi vogliamo essere tranquillamente esclusi perché non eravamo la coppia giusta e siamo andati via con un senso di sicurezza e di tranquillità e nonostante un'ora e mezza di viaggio e di ritorno perché veniamo da Sulmona siamo tornati a casa ancora con le emozioni addosso e con la voglia di viverla no quel giorno? ovviamente sì, non vediamo l'ora che arrivi quel giorno e godereci la nostra festa sì